Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi parliamo di una nuova espressione idiomatica, essere alla frutta. Prima di vedere qual è il significato di questa espressione e quando si può utilizzare nella conversazione, voglio dirvi che se volete imparare una lingua straniera l'italiano, il francese, il turco, il polacco, qualsiasi essa sia, e volete farlo con una persona, con un insegnante madrelingua, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata sulla piattaforma che si chiama italki, dove studenti e insegnanti possono incontrarsi e iniziare a studiare e a lavorare insieme. Il vantaggio più grande di utilizzare questa piattaforma è proprio quello di trovare degli insegnanti madrelingua che possono aiutarci ad imparare meglio e soprattutto a capire meglio la lingua, perché un insegnante madrelingua conosce tutte le sfumature, i modi di dire e può risolvere i nostri dubbi e può rispondere alle nostre domande. Se volete provare a fare una lezione su italki, nella descrizione qui sotto del video vi lascio un link su cui potete cliccare per ricevere 10 dollari da utilizzare per la vostra prima lezione di lingua. Allora, cominciamo. Essere alla frutta. La frutta, quella che noi mangiamo. A cosa si riferisce questa espressione? Si riferisce all'ultima portata di un pranzo o di una cena. Quindi, quando noi pranziamo o ceniamo e organizziamo delle cene o dei pranzi abbondanti, solitamente abbiamo varie portate. Quindi abbiamo l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce e la frutta. Quindi avete visto che la frutta è l'ultima portata di un pranzo o di una cena, quindi vuol dire che se siamo alla frutta abbiamo finito di mangiare. Metaforicamente questa espressione si riferisce ad una situazione in cui siamo arrivati alla fine di un percorso, non abbiamo più niente da fare, non abbiamo più niente da dire. Quindi se io dico sono alla frutta oppure sono arrivata alla frutta, significa che non ho più energie per affrontare una determinata situazione. Quindi sono alla frutta, basta, non posso più fare altro. Quindi potrebbe riferirsi a una situazione di stanchezza o anche a una situazione in cui noi ci arrendiamo perché non possiamo più fare niente. Proprio perché questa espressione si riferisce alla portata finale di un pasto, ci fa capire che comunque si riferisce alla fine di qualcosa. Essere alla frutta potrebbe anche significare sono a corto di idee, non ho più idee, non ho più energia, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un'espressione che si riferisce ad una situazione un po' negativa, diciamo. Allora, se volete conoscere altre espressioni idiomatiche, potete andare a dare un'occhiata alla playlist che si chiama Italian Idioms che contiene tutti gli altri video che ho fatto sulle espressioni idiomatiche. Fatemi sapere se esiste un'espressione equivalente a questa nella vostra lingua e quindi lasciate un commento qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!